allora come tutte le sfide accetto la sfida che mi hanno lanciato ma lo dico bello chiaro rappresento la mia bottiglia naturale del vino d'occhi del milan però purtroppo non posso bere ma lo faccio alla salute di tutti e lo faccio con un po di spumantino leggero un po di spumantino leggero accetto la sfida alla salute di angelo zinna e nomino e rinomino angelo zinna alla salute alla salute anche di antonino macaluso alla salute e rinomino pure a lui che mi ha nominato pure antonino macaluso alla sua salute e dopo alla salute di mia cognata che mi è stata vicina mia cognata rosetta cangillere la nomino e la rinomino e aspetto pure il suo video che il suo video l'altra volta mi ha fatto pure il piacere di vederlo alla salute cognata dopo saluto 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 e alla salute nomino al mio compare enrico dalù che aspetto pure il suo video con un abbraccio e una diciamo una buona il primo di maggio per a lui alla salute è una cosa che dobbiamo fare perché è una cosa della salute arrivederci e per ultimo lascio la nomina a mia moglie che mi aveva nominato prima e alla sua salute e aspetto pure il suo video alla salute mia moglie cancelleri Liliana con alla salute buon primo di maggio a tutti